Ciao mamma! Vuoi strofinarmi la schiena? E' quell'orsetto! Ciao gallina! Ho dipinto un quadro per la mia mamma! Guarda, ti piace? Sì, mi piace! Gli ospiti sono già tutti seduti! È il grande momento! Di già? Vado a chiamare la sposa! Ehi, ma tu adesso dove hai messo il culo? Ma il sorvetico! Falsoletico! 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 Forse ci potrà dire se qualcuno che si è fatto tagliare i capelli di recente aveva dei rametti attaccati ai vestiti! Bravo! Ottima idea, Sandrino! Incredibile! Hanno risolto il puzzle! È un pesce volante! Penso che voi dobbiate cambiare posto! Ok, pirati, andiamo avanti! Non dimenticate che abbiamo un tesoro da trovare! Eccellente! Hanno risolto!